Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 dei migliori GPS per automezzi pesanti del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato il GPS per automezzi pesanti Garmin DEZL LG V700 MTD EU. Il Garmin DEZL ha molte caratteristiche specificatamente progettate per gli automezzi pesanti. Dovrà inserire le dimensioni e il peso del tuo camion e questo GPS ti presenterà i percorsi personalizzati ma anche tutti gli avvisi di traffico che indicano pendii ripidi, curve strette, altezza dei ponti, eccetera. Inoltre questo dispositivo è dotato di una mappa di tutta l'Europa che integra 46 paesi e anche di una funzionalità che si riferisce ai percorsi che i conducenti seguono di più. Con l'applicazione mobile Garmin Drive i conducenti potranno controllare i parcheggi disponibili per i mezzi pesanti dal proprio smartphone. Infine questa app ti darà la possibilità di avere accesso ai diversi prezzi del carburante, al traffico stradale, agli annunci meteorologici e anche alle info sulle zone di pericolo mobili o fisse. Come al solito su Top Tech se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet vai alla descrizione di questo video avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato il GPS per automezzi pesanti Navi Pro da 7 pollici. Il GPS Navi Pro ha uno schermo da 7 pollici, in alta risoluzione, nitido e chiaro. Inoltre questo dispositivo di navigazione incorpora una cartografia, ovvero un immenso database già preinstallato. Il suo ruolo è quello di esporre aree di campeggio, magazzini, parcheggi, aree industriali e molto altro. Molto utile per i conducenti che sono alla ricerca di mappe molto grandi e ben dettagliate. Navi Pro è in grado di indirizzare i professionisti del trasporto verso la destinazione giusta. Questo GPS è in grado inoltre di inviare avvisi al conducente. Ciò migliora la sicurezza su strada e risveglia ulteriormente la vigilanza del conducente. In effetti questi avvisi segnalano zone a traffico intenso, curve pericolose, passaggi a livello e altro ancora. Insomma, che cosa volere di più da un navigatore? Al secondo posto abbiamo selezionato il GPS TomTom Go Professional 6250 per automezzi pesanti. Il TomTom Go Professional 6250 è il dispositivo giusto che si adatta bene a camion, autobus e furgoni. Tutti i tuoi percorsi possono essere pianificati dal tuo tablet, telefono o laptop. Grazie all'app MyDrive puoi scegliere i tuoi viaggi e i diversi punti di sosta il giorno prima. Con la sua mappatura precaricata, questo GPS ti mostra tutti i percorsi adatti al tuo tipo di veicolo. Pertanto, precisione assicurata sulle strade d'Europa. Puoi inoltre inserire le schede wifi sul GPS senza passare attraverso un PC. Inoltre, questo TomTom integra una scheda sim e il TomTom Traffic, per permetterti di ricevere notifiche o avvisi in tempo reale sulla qualità del traffico, eccetera. Inoltre, questo dispositivo intelligente sarà in grado di leggere i tuoi messaggi ad alta voce, mentre le tue mani rimangono sul volante. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te su internet, fai click sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto, abbiamo selezionato il GPS TomTom Go Professional 520 per automezzi pesanti. Questo modello è facilmente installabile sul tuo cruscotto e diventerà rapidamente il tuo fedele compagno sulle strade d'Europa. Incorpora una mappa di 47 paesi e sarà quindi in grado di mostrarti i percorsi aggiornati, sempre. I suoi aggiornamenti vengono eseguiti attraverso il suo Wi-Fi integrato. Pertanto non sarà più necessario ricorrere a un PC portatile. Questo GPS ha il TomTom Traffic per una guida sicura, ha 16 GB di memoria interna espandibile tramite una scheda microSD e possiede funzionalità utili e intelligenti, lettura vocale dei tuoi messaggi di testo, funzione di chiamata a mani libere tramite bluetooth. Insomma, sarai in grado di mantenere l'attenzione sulla strada. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare clic sui link per ottenere tutte le specifiche più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a fare la tua scelta, metti un mi piace e iscriviti al canale TopTech per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo alla prossima volta, qui su TopTech. Ciao!